Un settore in criticità, la necessità di costruire un tavolo regionale sulle politiche di salvaguardia, lo chiede la risoluzione della Commissione Sviluppo Economico, approvata in aula con 27 voti a favore e due contrari. Parliamo del settore conciario, con particolare riferimento al distretto di Santa Croce sull'Arno e Ponte a Egola. La risoluzione fa seguito all'audizione delle associazioni dei rappresentanti datoriali e dei lavoratori del distretto, che si è tenuta a inizio maggio. Il Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che chiede due cose. La Costituzione a livello regionale di un tavolo sulla crisi del settore moda che nel frattempo il Presidente Gianni ha già attivato con prontezza e solerzia. E chiede anche al Governo ovviamente di intervenire, perché fra le misure che noi abbiamo individuato, alla luce anche dell'audizione che abbiamo svolto il 2 maggio scorso, alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali di quel territorio, sono state avanzate delle proposte che sono di competenza del Governo. Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende, essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni. A misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale, a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive. Quindi ci stanno competenze della Regione, ma ci stanno anche competenze del Governo. Come detto, la risoluzione è passata con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Lega e Gruppo Misto. Noi pensiamo che la Toscana nei secoli abbia prodotto bellezza e sicuramente la moda in generale, il distretto conciario in particolare, fanno parte di questa capacità straordinaria che è tutta Toscana di produrre bellezza e di portare la giro per il mondo. Nello specifico il settore del distretto conciario di Ponta Egola e Santa Croce sull'Arno hanno anche un'altra caratteristica che io trovo assolutamente apprezzabile, ovvero il fatto che quello che altrove è un rifiuto speciale da dove smaltire, cioè il pellame di un animale che viene macellato nel ciclo alimentare e quello che altrove diventa un rifiuto speciale da dove smaltire quando passa da Santa Croce o da Ponta Egola, il nostro distretto conciario diventa invece un bene di lusso pregiato che va nelle boutique di tutto il mondo come un prodotto bello. Quindi questo è appunto il genio italiano, il genio toscano che ha la capacità di vincere nel mondo. Il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta. Questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziarie, che hanno giustamente colpito quel distretto, che ci auguriamo che portino delle sentenze nel minor tempo possibile, condannando i colpevoli nel modo più intransigente e più severo possibile. Favorevole per un tavolo su tutto il distretto Moda, che parte sicuramente da delle audizioni avute in seconda commissione, di cui faccio parte, di una denuncia fatta da tutto il distretto conciario del comprensorio del cuoio. Un tema delicato, un periodo difficile per la crisi del lusso, un periodo difficile per l'export, che ha avuto un calo di più del 20%, dovuto a una crisi del lusso in generale, dovuto anche a una crisi energetica, alle guerre che si stanno succedendo in Medio Oriente, in Europa, e quindi questo ha portato anche a una denuncia da parte di quel settore, un settore importantissimo per la nostra regione, che ha tantissime aziende e contoterzisti che lavorano all'interno di quel distretto. Il tavolo Moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della Giunta regionale, ma anche all'attenzione del Governo centrale, perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari, anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà, un momento che sembra potersi riprendere nella prima parte del 2025, però è questo il momento in cui la politica, le istituzioni tutte, senza distinzione di colore, di appartenenza politica, devono stare a fianco di tantissimi imprenditori, di tantissime aziende, industrie, di tutti quei lavoratori che in questo momento vertono in un periodo di crisi. Sono già molte le casse integrazioni aperte in quel distretto e quindi non si può aspettare che la crisi peggiori, che la crisi aumenti, perché è arrivato il momento veramente come Consiglio regionale, come Giunta regionale e con l'aiuto del Governo nazionale di intervenire per dare un supporto non soltanto politico ma anche amministrativo con atti concreti al settore, al comparto moda, che per la Toscana è sicuramente un'incendenza, un brand in tutto il mondo. Contro ha votato il Movimento 5 Stelle. La problematica della crisi di alcuni settori tra cui la moda e il lusso esiste e non è soltanto della Toscana, è di tutta Italia, anche internazionale direi, e quindi di questo sarebbe bene che magari il Ministero del Made in Italy fornisse degli strumenti finanziari e normativi per cercare di dare una mano a questo comparto che sicuramente produce ricchezza. Ma c'è un aspetto qui, in Regione Toscana, che non può essere ignorato insieme alla presentazione di questa risoluzione. che lo stesso settore per il quale oggi siamo andati a votare una mozione è il medesimo all'interno del quale territorio sono stati causati uno dei più grandi scandali a livello ambientale che la Toscana ricordi, che è quello legato al Keu, che è quello legato allo smaltimento illecito dei rifiuti, che ha coinvolto le istituzioni, che ha coinvolto un sistema anche di rapporti fiduciari tra cittadino e politica che non possiamo ignorare. Con voto unanime e palese è stata costituita la commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali in Toscana di ottobre e novembre scorsi. Ne fanno parte tutti i gruppi politici, ad eccezione di Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Il Partito Democratico storicamente si è sempre reso assolutamente disponibile all'apertura, ma soprattutto al buon funzionamento delle commissioni d'inchiesta. Io personalmente nella precedente legislatura ho fatto parte, ho portato avanti il lavoro da Vice Presidente della Commissione d'inchiesta sulle discariche poste sotto sequestro. Il Partito Democratico ha sicuramente questa opportunità di portare un contributo ai lavori di una commissione che ovviamente non abbiamo dubbi si svolgeranno in maniera ordinata, approfondita e corretta e dunque sarà quella l'occasione anche per mettere in evidenza molti degli aspetti che hanno caratterizzato questo tema così rilevante, così importante e anche così doloroso per molti territori e per tante persone. L'auspicio ovviamente, ma non ci sono elementi che ci fanno pensare allo Stato che avvenga qualcosa di diverso e che non ci siano strumentalizzazioni o usi scorretti di questa commissione. Ecco, il Partito Democratico in tal caso ovviamente saprà anche reagire a questo tipo di storture che però, lo ripeto, al momento non sono all'ordine del giorno. Con un ufficio di presidenza corretto, presidente dell'opposizione, vicepresidente della maggioranza, vicepresidente segretario dell'opposizione, è una commissione importante, una commissione alla quale mi pregio di appartenere perché serve a fare chiarezza su quanto è accaduto e soprattutto su quanto è stato fatto in modo da mettere in evidenza che l'operato della regione e del governatore sono stati inicepibili. Io credo che alla fine del percorso tutto questo emergerà. Anzitutto voglio ringraziare i miei colleghi perché comunque è un'attestazione di fiducia sulla mia persona che davvero mi rende orgogliosa ma da un lato mi responsabilizza anche molto. Sappiamo che il tema dell'alluvione è un tema centrale oggi non solo del dibattito politico, l'abbiamo visto in questi giorni quando continua una polemica che viene messa in piedi quasi quotidianamente tra il governo e la regione toscana, il presidente della regione che è anche commissario straordinario. Io credo che con oggi davvero si sancisca la fine, spero, del tempo delle polemiche e l'inizio del tempo in cui veramente si accertano i fatti, le responsabilità e soprattutto si capisce anche cos'è che è mancato in questi decenni alla Toscana perché è chiaro che la questione della prevenzione del rischio geologico è centrale, la questione della tutela del territorio è centrale, oltre appunto a capire quei giorni che cosa non ha funzionato eventualmente nella macchina dei soccorsi, il nostro sistema di protezione civile, se ci sono delle cose da correggere, il ruolo dei consorzi di bonifica, quindi un insieme diciamo di situazioni che sicuramente meriteranno quell'approfondimento oggettivo che è l'obiettivo principale di questa commissione. Inizieremo già la prossima settimana a stabilire un calendario, sicuramente una delle priorità è capire anche alla luce delle polemiche di questi giorni il lavoro della struttura commissariale, anche nella fase della ricostruzione, questo credo che sia prioritario. Naturalmente come ho detto prima a questo si accompagna anche un'indagine approfondita sullo stato dell'arte del territorio, su come diciamo si è potuti arrivare, se ci sono delle cause naturalmente al di là di quelle che sono poi gli eventi meteorologici particolarmente diciamo forti che si possono e si sono abbattuti su questa regione. Però ecco per noi partire dalla struttura commissariale e dal lavoro che è stato fatto anche sulle risorse, ci sono ancora tanti cittadini che oggi aspettano di avere delle risposte, è chiaro che la parte dei ristori economici assume un ruolo centrale, ma anche qui dobbiamo anche capire dove si riesce ad arrivare, chi è stato effettivamente ristorato, perché è chiaro che un'attività che ha subito danni ingenti, non solo materiali ma anche di un fermo nella produzione, sono danni che sono anche inquantificabili, quindi occorre secondo me fare un focus su queste cose, in questi aspetti, quindi c'è una parte ambientale e una parte che invece riguarda più la parte organizzativa e di protezione civile e di lavoro della struttura commissariale. C'è una struttura commissariale, quindi il lavoro della struttura commissariale è proprio quello di concretizzare e quindi di erogare materialmente quelle che sono diciamo le risorse. Io ripeto, non intendo entrare in questa pelemica, posso solamente dire che rispetto all'impegno che si è presa la Presidente del Consiglio a marzo, le risorse sono state stanziate, sono risorse importanti, è chiaro che c'è una parte di attuazione che però richiede anche una collaborazione e una certa sinergia tra la struttura governativa e la struttura regionale. Invece se si continua ad impostare, pur capendo il crimine elettorale, questo tema che è tragico sotto certi aspetti, sia da un punto di vista delle persone ancora fuori casa, del fermo delle attività produttive, solo ed esclusivamente, con una polemica, con il Governo nazionale non arriviamo da nessuna parte. Quindi io chiedo invece maggiore sinergia e maggior attivismo. Dove c'è da correggere? Il Governo fa sempre la sua parte, questo per un istante elettorale lo voglio dire, quindi ho iniziato dicendo meno polemiche, ecco meno polemiche, più sinergia e più fatti. E naturalmente tutto questo, la Commissione di inchiesta, ecco si farà carico per quanto possibile, per quanto nel ruolo di dare delle risposte. Intanto io sono soddisfatto e ringrazio i membri della Commissione per avermi eletto Vice Presidente Segretario. Credo che la Commissione, fortemente voluta da tutto il centro-destra, sia uno strumento utile a attenzionare una vicenda sulla quale abbiamo avuto a più riprese un dibattito anche in Consiglio regionale negli ultimi mesi del 2023, ma anche all'inizio del 2024, particolarmente acceso perché ci sono ovviamente anche visioni differenti. Lo stesso è successo a livello parlamentare, quindi credo che sia uno strumento utile a fare ulteriore chiarezza. Chiarezza che chiaramente sarà concentrata in particolar modo sull'area fiorentina, che è stata sicuramente quella più colpita o comunque del centro della Toscana, ma che ho a cuore di sottolineare anche in Bersiglia e sulla costa i danni si sono sentiti e le richieste sono tante. Tant'è vero che l'istruzione della Commissione è allargata alle vicende non solo del 2 di novembre, ma anche quelle dal 29 ottobre al 1 di novembre, che fu io stesso a segnalare, in particolar modo proprio sulla costa a Torre del Lago, ma poi anche a Pisa e a Massa. Presentato in Commissione Affari Istituzionali il bilancio di un anno di lavoro del Difensore Civico della Toscana, un servizio gratuito a favore dei cittadini toscani, con numerosi ambiti di intervento. Questa mattina abbiamo avuto l'occasione in Commissione presso il Consiglio regionale di raccontare questo primo anno intenso di lavoro come Difensore Civico per l'anno 2023. Le istanze che sono state presentate sono 1.636. Al di là dei numeri abbiamo anche spiegato un po' il nostro approccio, cioè quanto è importante che poi questi numeri, cioè l'azione di tutela che svolge il Difensore Civico, sia il più possibile un'azione di qualità. E quindi ci siamo impegnati per lo studio, l'approfondimento, l'istruttoria delle istanze, ma anche cercando di costruire un dialogo proficuo con i cittadini, ma anche con le pubbliche amministrazioni a cui ci rivolgiamo, per chiedere, sollecitarle, anche ad un rapporto che sia il più chiaro e trasparente possibile. Quindi è cercare di migliorare reciprocamente il nostro rapporto, il supporto, che anche come Difensore Civico possiamo dare ai nostri cittadini. I servizi che offre il Difensore Civico sono completamente gratuiti. Un'attività molto importante a cui noi teniamo molto è quella, per esempio, di conciliazione con IT, e quindi sul servizio idrico, ed è un'attività che viene svolta dai funzionari dell'ufficio, che sono ormai formati, hanno una competenza consolidata, ed effettivamente i risultati delle procedure sono sempre piuttosto positivi. Quindi è importante sottolineare anche questa gratuità, che però corrisponde anche ad una competenza, appunto, che arriva da un po' una tradizione storica del Difensore Civico della Toscana. Noi poi ci occupiamo veramente di tutto, ci occupiamo chiaramente dell'ambito sanitario, e il nostro sforzo ulteriore è stato quello di costruire un rapporto diretto e proficuo di confronto con le aziende sanitarie attraverso gli URP. E adesso una rinnovata campagna di comunicazione per far conoscere le attività del Difensore Civico. Siamo anche impegnati per diffondere la conoscenza del Difensore Civico nel territorio regionale, quindi attraverso i nostri sportelli di difesa civica. Una cosa importante, abbiamo anche oltre al logo, lo slogan, abbiamo rinnovato anche interamente il sito del Difensore Civico e attraverso il nostro sito è possibile per cittadini e associazioni presentare attraverso un modulo la propria istanza di tutela. Quindi anche in questo diamo un supporto, una guida al cittadino. È importante però che il cittadino a sua volta si senta responsabilizzato quando si rivolge a noi, quindi che ci fornisca una documentazione completa, che segua anche i passaggi di cui noi abbiamo bisogno, quindi che inizialmente interagisca con la pubblica amministrazione e poi arriviamo noi, se necessario, per fare da tramite, fare in modo che le azioni reciproche siano il più possibile soddisfacenti per un po' la comunità.